Ciao a tutti, è finita da poco Roma-Juventus, risultato di 1-0 per la Roma, la Juventus ha perso e questa credo che sia la notizia più desolante della giornata, però indubbiamente credo che la seconda notizia più desolante è quella di aver visto una partita così brutta, una partita giocata molto male da tutte e due le squadre, o meglio, giocata come gli allenatori volevano che si giocasse, cioè in difesa, solo difesa, poco attacco, poca offensività, pochi schemi, attenzione alla fase difensiva, mentre se la palla andava in avanti magari non ci si dava più di tanto peso. Una partita che nel primo tempo è stata decisamente molto molto derudente, nonostante i due allenatori siano i due allenatori più pagati d'Italia, perché Allegri con 9 milioni e mezzo e Mourinho con 8, se non ricordo male, 9-10, comunque sono il primo e il secondo allenatore più pagato d'Italia, sicuramente se quello è il loro gioco, insomma, magari tutti quei soldi lì non se li meritano, però è anche vero che sono allenatori di quel genere lì che prediligono la difesa, cercano di farsi fare meno gol possibili e di portare a casa anche la vittoria a corto muso, come questa sera ha portato a casa Mourinho. Dire la verità, tutto abbastanza occasionale, perché se Mancini non inventa quel tiro incredibile che ha fatto al 52esimo, un 53esimo, un gol incredibile, perché tira veramente un bel tiro, certamente la difesa poteva fare di più, così come Shesny, che è stato un po' sorpreso da questa pallonata incredibile del giocatore romanista. D'altra parte ho visto una Juventus che ha costruito poco e nonostante abbia costruito poco ha costruito sicuramente di più di lei a Roma, infatti ha preso tre pali, però come si suol dire i pali non fanno punteggio e di conseguenza la Juventus ha perso. Poi è chiaro che i cambi di Allegri sono quelli che sono, perché sì, hai messo Chiesa e va bene, perché comunque è un giocatore che sta prendendo forma e stai cominciando a entrare nella condizione giusta. Infatti è stato forse uno dei più pericolosi della Juventus dopo Di Maria, però poi mette Paredes che è assolutamente inconsistente, come sempre, non si capisce bene cosa faccia in campo. Dall'altra parte mi ha messo Pogba che ad oggi ancora non è in grado, a mio modo di vedere, di entrare e fare differenze. Io credo che forse sarebbe meglio farlo partire dall'inizio per dargli un po' di partita e per fargli macinare un po' di campo, cosa che in questo momento gli manca parecchio, in effetti non è stato assolutamente efficace come avrebbe dovuto essere, anzi ha fatto molta fatica e un'occasione buona che gli è capitato invece di andare al tiro ha pensato di passarla, cosa che poi è stata fallimentare perché la palla è stata deviata da gambe romaniste. Poi l'ultima genialata di Allegri, quella di inserire Keane, che per carità non può neanche essere imputata tutta ad Allegri, però io mi dico, Keane, vai in campo, dopo 20 secondi vieni espulso per un fallo violento, ma sei proprio un pirla. Io non lo so, cioè vai in campo per risolvere la partita, per dare una mano ai tuoi e dopo 20 secondi perché uno ti trattiene la maglia, poi lì era fallo, era fallo del romanista, il fallo era comunque d'espulsione perché era comunque un fallo di reazione e violento, quindi il giocatore bianconero andava buttato fuori a prescindere anche se poi il fallo difensivo era evidente. Poi non è concepibile, non è spiegabile come mai un giocatore entrato da 20 secondi gli venga l'idea di dare un calcione al suo difensore. Boh, valla a capire, sarebbe bello capire come mai Keane ha fatto questa minchiata perché ad un certo punto non ci sono altre parole verso il giocatore della Juventus. Poi come detto la partita, quando doveva avere lo slancio finale, gli ultimi sette minuti di recupero e ti manca un uomo in meno, cioè un uomo in meno e quindi insomma la partita va a finire come deve andare a finire. Giustamente la Roma ha meritato la vittoria, non tanto perché abbia fatto un bel gioco, perché assolutamente no, neanche perché abbia prodotto più azioni da gol, neanche in questo caso si può definire una verità, il problema è che la Roma ha vinto perché ha fatto un gol e ha difeso benissimo, o meglio, ha difeso molto meglio della Juventus in modo esemplare. La Juve di per sé ha fatto un paio di occasioni che potevano essere sfruttate certamente meglio, ma d'altronde quando la palla non va dentro c'è poco da fare. Poi come dicevo anche prima, i pali non fanno punteggio, quindi ne puoi anche prendere 50, ma fondamentalmente se la palla non va in rete, te la tiri, te la meni e la partita la perdi comunque. Non saprei altro cosa aggiungere, se non degli impropri, ma non mi sembra il caso, quindi vi lascio alle vostre riflessioni, se volete farle nei commenti molto volentieri. Detto questo vi saluto, buona serata, mi raccomando se avete voglia di mettere il mi piace sarebbe una bella cosa, così come iscrivervi al canale che è sempre ritenuto un bel gesto. Detto questo buonanotte, ciao a tutti.